Eccoci dunque alla lettura diretta del Vangelo secondo Marco grazie alla voce recitante di Guido Uberti che da anni vive con noi questa avventura della lettura tra le altre cose soprattutto dei Vangeli integrali e devo anche dire sottolineare che il gruppo progetto Vangelo ha proprio come decisione spontanea quella di non fare uso del denaro di lavorare gratuitamente secondo il dettato evangelico delle parole di Cristo secondo cui abbiamo ricevuto gratuitamente e gratuitamente dobbiamo dare e noi crediamo che questa gratuità sia un presupposto per l'efficacia del Vangelo per la vita delle persone che lo leccano, lo ascoltano o lo insegnano o lo trasmettono come stiamo facendo anche noi in questo momento. Quindi al di là della nostra debolezza, fragilità, normalità, la ricchezza della parola in sé. Allora cosa leggiamo nei primi quattro capitoli? Abbiamo deciso di leggere il Vangelo in quattro tappe sebbene abbiamo già visto il Vangelo in realtà si è diviso in tre parti ma questa è un'altra questione e vediamo allora i primi quattro capitoli. Innanzitutto la figura del Giovanni Battista, il battesimo di Gesù al Giordano, le tentazioni di Gesù nel deserto, il ritorno di Gesù in Galilea e l'annuncio della buona novella, la chiamata di Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, il primo esorcismo nella sinagoga di Cafarno, la guarigione della sorcia di Pietro e gli esorcismi al tramonto del sole. Gesù che poi va negli altri villaggi della Galilea dove guarisce un lebroso e la guarigione del paralitico di Cafarno ci porta al capitolo secondo. Nel capitolo secondo dopo la guarigione del paralitico vi è la chiamata di Matteo detto anche Levi. Gesù è venuto per i peccatori e iniziano le prime questioni, la domanda sul digiuno perché Gesù e i discepoli non digiunano, l'osservanza del sabato, l'uomo signore del sabato, la guarigione dell'uomo con la mano paralizzata e numerose guarigioni. Gesù sceglie i dodici apostoli e siamo entrati nel capitolo terzo con la guarigione dell'uomo con la mano paralizzata. Procediamo sempre nel capitolo terzo. Gesù è la diattiva sulla Belzebul, sul fatto che secondo alcuni è posseduto dal demonio. Chi sono la madre e i fratelli di Gesù? Siamo al capitolo quarto che è la parabola, appare, si muove con la parabola del seminatore. Gesù poi spiega il scopo delle parabole, parla della parabola della lampada, discorso sul giudicare, la parabola del seme che germoglia da solo, la parabola del granello di senope. Gesù calma la tempesta, si passa dall'insegnamento ad episodi piuttosto clamorosi. E con la tempesta sedata ci si approssima al capitolo 5 con il demoniato di Gerasa, ma vediamo in seguito. Buona lettura, buon ascolto per la vita, il Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Esaia, ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà alla strada. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico, e predicava «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba, e si sentì una voce dal cielo «Tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto». Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase quaranta giorni tentato da Satana. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Passando lungo il mare della Galilea vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciate le reti lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Andarono a Cafarnao. Entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise a insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli iscrivi. Allora un uomo, che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare «Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù lo sgridò «Taci, esci da quell'uomo!» E lo furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità, comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!» La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea. E, usciti dalla sinagoga, si recarno subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Venne la sera. Dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guari molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e, trovatolo, gli dissero, «Tutti ti cercano». Egli disse loro, «Andiamocene altrove per il villaggio vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoge e scacciando i demoni. Allora venne a lui un lebroso. Lo supplicava in ginocchio e gli diceva, «Se vuoi, puoi guarirmi». Mosso a compassione stese la mano, lo toccò e gli disse, «Lo voglio, guarisci». Subito la lebra scomparve ed egli guarì. E ammonendolo severamente lo rimandò e gli disse, «Guarda di non dire niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro». Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare, a divulgare il fatto al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Ed entrò di nuovo a Cafarno dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa, e si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava a loro la parola. Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico, «Figliuolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro. Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro, «Perché pensate così nei vostri cuori, che cosa è più facile? Dire al paralitico ti sono rimessi i peccati o dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati? Ti ordino, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo, «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva lui ed egli li ammaestrava. Nel passare vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse, «Seguimi». Egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli iscrivi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli, «Come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?». Avendo udito questo, Gesù disse loro, «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori». Ora, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero, «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». Gesù disse loro, «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo spose con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Ma verranno giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo squarce il vecchio e si trova uno strappo peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi». In un giorno di sabato Gesù passava per i campi di grano e i discepoli camminando cominciarono a strappare le spighe. I farisei gli dissero, «Vedi, perché si fanno di sabato quello che non è permesso?». Ma egli rispose loro, «Non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e i suoi compagni, come entrò nella casa di Dio sotto il sommo sacerdote Abiatar e mangiò i pani dell'offerta, che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi compagni». E diceva loro, «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato». Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano inaridita, «Mettiti nel mezzo». Poi domandò loro, «È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?» Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo, «Stendi la mano». La stese e la sua mano fu risanata. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla Galilea. Dalla Giudea da Gerusalemme e dall'Indumea e dalla Trasgondania e dalle parti di Tiro e Sidone una gran folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui. Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero. Infatti ne aveva guariti molti così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando «Tu sei il figlio di Dio!» ma egli gli sgridava severamente perché non lo manifestassero. Salì poi sul mondo, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono con lui. Ne costituì dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i dodici, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede del nome di Buonarchers, cioè figli del tuono. E Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeus, Simone il Cananeo e Giude Iscariota, quello che poi lo tradì. entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui in molta folla al punto che non potevano neppure prender cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano «è fuori di sé». Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano «costui è posseduto da Belzebù e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni». Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole «come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in sé stesso, quel regno non può reggersi. Se una casa è divisa in sé stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose, se prima non avrà legato l'uomo forte. Allora ne saccheggerà la casa. In verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, sarà re o di colpa eterna, poiché, dicevano, è posseduto da uno spirito immondo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero, ecco tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare e si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e la restò seduto stando in mare, mentre la folla era terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento, ascoltate, ecco uscì il seminatore a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono, un'altra cadde tra i sassi, dove non c'era molta terra e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo, ma quando si levò il sole restò bruciata e non avendo radice si seccò. Un'altra cadde tra le spine, le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. E un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe e rese ora il trenta, ora il sessanta e ora il cento per uno. E diceva, chi ha orecchi per intendere, intenda. Quando poi fu solo, i suoi insieme ai dodici lo interrogavano sulle parabole, ed egli disse loro, a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole perché guardino e non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Continuò dicendo loro, se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola, quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Similmente, quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che quando ascoltano la parola, subito la colgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi. Sono incostanti e quindi, a sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine. Sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie. Soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto nella misura a chi del 30, chi del 60, chi del 100 per 1. Diceva loro, si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto o piuttosto per metterla sull'ucerniere. Non c'è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per intendere, intenda. Diceva loro, fate attenzione a quello che udite. Con la stessa misura con la quale misurate, sarete misurati anche voi. Anzi, vi sarà dato di più. Poiché a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Diceva, il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce perché è venuta la mia titura. Diceva, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? Esso è come un granellino di senapa che quando viene seminato per terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma appena seminato cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e farami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere. Senza parabole non parlava a loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro, passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé così come era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero, maestro, non ti importa che moriamo? Destatosi, sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati. Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi, disse loro, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro, chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? taci, calmati. taci, calmati.